Siamo allo spazio di approfondimento, il paginone dopo il nostro telegiornale. Oggi abbiamo scelto tre argomenti. Il primo riguarda l'aumento esorbitante, il costo dei carburanti, non sappiamo più come uscirne e di questo ci parlerà il dottor Di Rieto che è già collegato con noi. Queste cose le ha studiate bene, sa come difendere noi cittadini, ce lo racconterà. Poi abbiamo l'edilizia, l'edilizia che è ferma perché non c'è la materia prima e il dottor Perceccante con la sua consueta puntualità e schiettezza ci dirà come stanno le cose. E in studio con noi c'è l'assessore Gianluca Gallo. Grazie per essere qui. L'agricoltura, perché l'agricoltura poi è il terminale di tutte queste difficoltà che registriamo. Il mio compagno di viaggio è Filippo Verti che è collegato con me. Buongiorno a tutti. Filippo, facciamo subito, diamo subito un primo assaggio di quello che è l'aumento sconsiderato del costo dei carburanti. Leggevo, l'ho detto anche il Ministro, è una truffa. Non esiste al momento la condizione tale di difficoltà perché si possano registrare costi così alti. Che cosa sta succedendo in questo Paese? Introduci tu Filippo perché poi voglio sentire di rieto, subito. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Guarda, quello che sta avvenendo ovviamente lo sanno tutti i cittadini perché incontrano questi prezzi che ormai sono tutti quanti ben sopra i 2 euro al litro. In alcuni casi il gasolio supera addirittura il prezzo della benzina. Per la verità oggi c'è un minimo calo ma insomma un po' impercettibile dei carburanti che è dovuto a varie situazioni. Però la cosa che a me preme dirle, credo che anche l'Avvocato di Lieto poi concorderà con me, voglio capire come intendono muoversi le associazioni a tutela dei consumatori. E' proprio quella dichiarazione alla quale tu hai fatto cenno del ministro Cingolani perché quella è una dichiarazione un po' strana che lascia un po' stupiti. Perché un ministro della Repubblica non può dire quelle cose senza che poi ne tragga le conseguenze. Cioè a dire che metta in atto delle azioni, delle dichiarazioni quantomeno conseguenti a quello che egli ha detto. Perché non ci può essere un ministro che dice vabbè però sono ingiustificati gli aumenti. Perché il ministro non è la stessa cosa che siamo io e te, ha la possibilità di intervenire e non si capisce quello che sta avvenendo. A me ha spiazzato questa dichiarazione. Ma assolutamente. A un cittadino ma come? E lo devo dire al ministro che il ministro dice una truffa. Ma a che modo è? Se è una truffa un ministro ha la possibilità e ha soprattutto il potere tale da poter intervenire. Ora non so io se siamo in presenza di una truffa. Questo ripeto, direttamente da poco ce lo dirà. Fatto sta che c'è un aumento dovuto a varie questioni che erano antecedenti allo scoppio della guerra in Ucraina. Quindi non dipendono strettamente dalla guerra in Ucraina e che ora sono però via via cresciute. Cosa possiamo fare non lo so, ma è evidente che adesso è stato bloccato lo sciopero degli autotrasportatori con un accordo che c'è stato. Ma io credo che se andiamo avanti con queste cifre che ho citato poc'anzi, e cioè tutti i carburanti, diesel e benzina, ben oltre i due euro al litro, io non credo che si faccia molta strada. Sentiamo di dietro. Guardi, noi avevamo depositato un esposto in tutte le procure d'Italia e quindi anche nelle procure calabresi affinché si verificasse ogni possibile speculazione. Immagini quello che abbiamo provato nel momento in cui un ministro di questa Repubblica parla di colossale truffa. Ora, siccome non è il Codagon, se non è TEN a fare un'affermazione del genere, ma appunto un ministro, ci aspettavamo che avendo i carabinieri a disposizione... Gli strumenti, no? No, 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 ma addirittura i carabinieri, perché le società di raffinazione, le grandi società, sono passate da una commissione di 5,5%, quindi circa 8 centesimi al litro, al 20%, 30 centesimi al litro. Ora, perché non andiamo a verificare se effettivamente le quotazioni del greggio hanno subito aumenti del genere? Perché ricordo a me stesso che il petrolio non viene dai paesi coinvolti nella guerra, però la guerra viene utilizzata da qualcuno per lucrarci il suo cuore. E per questo abbiamo presentato un esposto alle procure per verificare appunto i possibili abusi. Abusi che il ministro ci conferma e tuttavia stiamo in silenzio ad attendere chissà cosa. Ma il ministro ha anche aggiunto che in pochi si arricchiscono alle spalle dei molti. Farebbe bellissimo se in questo paese si iniziassero a tassare gli extra profitti di queste mega società che determinano il prezzo. Guardi, i calabresi sanno benissimo che per fare il pieno della benzina andiamo a pagare mediamente 30 euro in più. Per non parlare poi del gasolio che costa 40 euro in più fare il pieno. Questo ovviamente in un paese che ha privilegiato il trasporto su gomma finisce per avere ripercussioni enormi sul paniere, sui consumatori, sulle famiglie. E se a questo aggiungiamo che nel primo trimestre 2022 le bollette dell'energia hanno subito un aumento del 131, vado a memoria, per cento. Quindi sono molto più che raddoppiate. E il gas del 94% sostanzialmente raddoppiato. Abbiamo un costo per persona di circa 2250 euro ogni anno. Con le retribuzioni che sono rimaste le stesse, in buona sostanza questi aumenti stanno avendo un impatto superiore a quello che ha avuto la pandemia. Assessore Gallo, naturalmente l'agricoltura sta soffrendo tremendamente questa situazione, no? Sì, l'agricoltura è in una fase di grande difficoltà perché chiaramente l'aumento dei costi energetici, quindi della bolletta energetica, l'aumento del gasolio agricolo perché segue anche i prezzi del gasolio per autotrazione, con una congiuntura così difficile mette in grande difficoltà le aziende agricole e gli imprenditori agricoli che non hanno d'altro canto vantaggi in termini di guadagni. Per cui abbiamo chiesto con forza a tutti gli assessori regionali all'agricoltura d'Italia, al Ministro Patonelli che peraltro deve naturalmente ragionare e confrontarsi con il Ministero dell'Economia, dei provvedimenti che possano sterilizzare questi aumenti. Abbiamo chiesto dei provvedimenti che possano sterilizzare il caro bolletta, il caro gasolio. Ieri abbiamo approvato in conferenza degli assessori in CPA un decreto convocato di urgenza, un decreto che erogava 20 milioni di euro al mondo della pesca e quindi è un primo segnale che viene dato dal Governo, ma noi ne aspettiamo tanti altri, ma ci aspetteremo anche dal Governo, per come detto in precedenza, che ci fosse un intervento per calmare i prezzi, atteso che il Ministro in particolare è convinto che questi prezzi siano ingiustificati. Se abbiamo un petrolio a meno di 100 dollari al barile non comprendiamo perché, sotto l'effetto anche della speculazione dovuta al conflitto in Ucraina, il gasolio in particolare, ma anche la benzina, abbiano sfondato i 2 euro e il gasolio agricolo è sopra 1,50 euro, quindi comprendiamo la difficoltà di ogni imprenditore, di ogni agricoltore e cerchiamo di avere l'incontro alle loro esigenze. Come Regione Calabria, avendo avuto solicitazioni in particolare dalla zootecnia, abbiamo presentato dei bandi di sostegno rispetto anche alla diminuzione dei costi energetici, quindi la possibilità di dotarsi di energie alternative, ma devo dire che anche da parte del Ministero dell'Agricoltura è in itinere un bando da un miliardo e mezzo di euro per intervenire sui costi energetici e quindi consentire alle aziende di avere energie alternative, ma non è una risposta immediata, nell'immediato bisogna diminuire i prezzi o sterilizzare gli americoli. Assolutamente, poi parleremo anche del grano e tutto ciò che riguarda l'agricoltura, forse è il caso di rimettere in circuito anche la nostra agricoltura, abbiamo campi sterminati, allora dobbiamo attrezzarci perché il futuro va in questa direzione, ma ne parliamo tra un attimo perché voglio sentire anche il Presidente Percacciante, anche qui il costo dei carbonanti incide pesantemente su tutta la filiera dell'edilizia. Beh certo, innanzitutto buonasera a tutti, certo per quanto riguarda le nostre aziende che in effetti movimentano tutto su gomma, il gasolio è una delle spese più importanti, sentivo prima che diceva, l'assessore ci spendo 2000 euro al mese di gasolio per viaggiare, pensi a uno che ha un'azienda dove partono tanti furgoni e tutti quanti i mezzi vanno a gasolio, lascio immaginare quelle che possono essere le spese, però io mi chiedevo, per cosa che ho ascoltato con attenzione l'assessore, noi abbiamo avuto un periodo dove il petrolio era a 140 dollari a barile, ora il massimo che ha raggiunto è stato 102, 103 dollari, oggi è poco meno di 100, stamattina è da poco meno di 100, 99, 100 insomma 98, e in quel periodo abbiamo raggiunto il gasolio era arrivato a 1,7, 1,8, adesso invece il gasolio l'abbiamo trovato a 2,4, quindi già da questo denota che c'è una speculazione in atto, non è possibile che ci possano essere, poi un'altra cosa che notavo, io l'altro giorno ritornavo da Catanzaro e ho visto lungo l'autostrada c'era una differenza di 10-15 centesimi tra un distributore e l'altro, ma è possibile che può esserci una differenza di 15 centesimi? Sì è un mercato libero, ma è un mercato comunque calmerato, non è che uno può fare quello che vuole, voglio dire, no? E questo sta creando danni, sta creando danni grossissimi anche per quanto riguarda la logistica, perché molte volte le consegne avvengono in ritardo, la settimana scorsa abbiamo avuto problemi con le consegne perché si sono bloccati, c'è stato pure uno sciopero degli autotrasporti, con quello che ne viene fuori, bloccare un cantiere, stamattina mi sono sentito con il mio collega di Macerata, il presidente, un costruttore, il mio presidente di Ange Macerata, che hanno bloccato i cantieri, hanno chiuso i cantieri perché il materiale aumenta, le forniture è difficilissimo reperirle perché sono dei materiali che non si trovano più, poi gli impianti di bitume che stanno chiudendo tutti, perché il bitume è aumentato, grazie a questa speculazione, è aumentato del 600%, come possono aprire la mattina un impianto di bitume che consuma emulsioni bituminose, servono le emulsioni bituminose, poi il gasolio per poi portarlo sul posto dove viene lavorato, il gas che serve pure per riscaldare, per portare a determinate temperature, che sono dei costi altissimi di gas per portare le temperature alte per poter fare il bitume, quindi è per forza che c'è la paralisi, insomma, di fronte a una cosa del genere, ma è una paralisi, ripeto, è una paralisi che sa di speculazione, perché non è concepibile il costo dei carburanti, cioè noi a parità di costo del petrolio poteva arrivare a 1,7, 1,8, 1,9, ma certo non a 2,3, 2,4, 2,5, però non ci stanno, stanno in cielo in terra. Filippo, questo primo giro ha già messo in campo una serie di argomenti che possiamo sviluppare. Sì, secondo me, Atti, c'è un punto però che io continuo a ritenere dirimente, che ovviamente non coinvolge noi e le persone che stanno partecipando dal Presidente Perciacan, dall'Avvocato di Rieta e all'Assessore Gallo, però chi ci ascolta vorrebbe sapere che significa che ci sono dei fatti speculativi, chi li mette in atto questi fatti speculativi? Perché mentre stavamo parlando prima, la Regia ha mandato in onda un altro cartello del Ministro Patuanelli, Assessore Gallo, il quale anche gli sostiene che c'è una speculazione sul prezzo del grano, perché in effetti stiamo verificando anche che addirittura il costo del pane ogni mattina che andiamo in panetteria è aumentato. Ora, è possibile dare delle risposte da chi ha il potere e in ogni caso capire noi ora, oggi, chi mette in atto queste speculazioni, perché questo è il punto. Se il prezzo del greggio è a livelli di cui parlava il Presidente Perciaccante prima, e di cui ha parlato l'Assessore Gallo prima, se non ci sono motivazioni tali, allora qualcuno dovrebbe intervenire per porre freno a questa situazione. Chiediamo a di Rieto chi specula, secondo voi. Allora, fermo restando che basta risalire la filiera per capire chi pone in essere speculazioni, cioè andare dal distributore finale e risalire attraverso le bolle di acquisto e si comprende chi è che specula sulla paura. Detto questo, se non si fa, se non si pongono in essere interventi strutturali che non possono essere somme erogate a pioggia, ma intanto cerchiamo di comprendere noi il 55% oltre tasse del prezzo del carburante è composto dalle famose accise. Noi ogni volta che facciamo benzina finanziamo la guerra in Abissinia, finanziamo la ricostruzione a seguito del terremoto del Belice, dell'Irpinia, eccetera. Dinanzi a uno Stato che pone in essere lui per primo una colossale truffa nei confronti dei consumatori. Ascoltare un ministro che parla di colossale truffa e incrocia le braccia senza porre in essere gli adempimenti conseguenziali è l'indice di un Paese che sta andando alla deriva. Per rispondere alla sua domanda sostanzialmente, se noi pensiamo che il pane abbia subito degli aumenti ingiustificati basta risalire la filiera dal penettiere fino al grande distributore e a chi importa la farina. E lì si capisce. Se non si vuole fare vuol dire che si vuole chiudere un occhio e dare una mano a chi specula su questa situazione, per guadagnare ovviamente. Ecco, io credo che la delega che adesso lei ha l'onore di guidare, di organizzare, è forse la più importante in questo momento. Perché? Perché si trova davvero al centro di una rivoluzione. c'è il grano per esempio, no? Leggevo i granai, la Russia è un grande granaio, insomma. Se non arriva questo grano, come si può fare? È chiaro che noi siamo passati già a pagare un chilo di pane oltre 2,50 euro. E quando arriveremo? Leggevo che a Parma un chilo di pane 9,50 euro, a Milano 11 euro. Voglio dire, ma così diventa una cosa, una corsa al rialzo che non si fermerà più. Noi come siamo messi da questo punto di vista? Ma come dicevi, la delega agricoltura è una delega strategica in Calabria, perché l'agricoltura è il settore economico con più aziende in assoluto, oltre 70.000 aziende in Calabria che si dedicano all'agricoltura, anche se quelle poi specificatamente impegnate sono un po' di meno. Ed è una delega importante perché di fatto al sud, io più volte l'ho detto, alla nostra regione, all'altra regione del sud, per decenni è stato detto, voi non potete fare altro, però potete fare agricoltura. Devo dire che i nostri conterranei, i calabresi, ma anche gli altri cittadini del Mezzogiorno, si sono impegnati a fare impresa e la fanno anche abbastanza bene, per cui c'è un settore dinamico, vivace. Ma non si può pensare, per esempio, abbiamo distese immense di terreno, no? Sì, che in questo momento è in grande difficoltà. Ci sono state delle scelte in Europa negli ultimi anni che venivano anche confermate nella nuova PAC, quella che abbiamo discusso alla fine dello scorso anno. L'Europa aveva scelto di non essere autonoma dal punto di vista produttivo e che alcune quantità di materie prime, mi riferisco al grano, mi riferisco al mais, dovessero essere invece acquistate in alcuni paesi come i paesi dell'est europeo, Russia, Ucraina, Ungheria ed altri paesi balcanici. La crisi tra Russia ed Ucraina ha determinato l'implosione di questo sistema e quindi proprio a livello europeo c'è da rivedere, sono arrivati chiaramente i segnali anche attraverso il Premier Draghi, l'imposizione della PAC. Quasi quasi l'Europa premiava gli agricoltori che tenessero a riposo i loro terreni, che non coltivassero i loro terreni, li sosteneva purché non utilizzassero medicinali o prodotti fitosanitari. Tanto è vero che a noi è stato consentito per anni di investire sul biologico, noi siamo come Calabria la terza regione d'Europa per sa utilizzata biologica, che è una misura non per aiutare le produzioni, ma è una misura di natura ambientale per l'Europa. Questo per noi deve diventare marcatore identitario, perché l'Europa stava declinando, prima della guerra Russia-Ucraina, una parola sostenibilità. Ma noi a grano e mais? Non siamo autonomi, possiamo produrne altre quantità, tanto è vero che per esempio io proporrò al Presidente Occhiuto e alla Giunta regionale una delibera nelle prossime sedute, nella quale chiederò che il nostro ente di divulgazione ARSAC, che è proprietario di alcuni terreni, metta a disposizione tutti i terreni per produrre grano e mais e quindi per aiutare anche noi con i terreni che attualmente magari sono a riposo, non sono utilizzati, queste produzioni, perché abbiamo per esempio per il mais da sostenere la zootecnia, c'è un grande pericolo per esempio per la zootecnia. Noi abbiamo una zootecnia avanzata in Calabria, organizzata, l'80% del latte vaccino è prodotto in una cooperativa sola in Calabria e credo che questi siano stati risultati importanti. Io leggevo però che anche per quanto riguarda il latte, tra un po' se non si ferma tutto andremo in difficoltà. Siamo già in difficoltà, perché anche prima della guerra tra Russia e Ucraina i nostri produttori zootecnici producevano latte in perdita, perché riuscivano a spuntare circa 42 centesimi e il prezzo è buono anche rispetto a quello di altre regioni, ma il costo di produzione si aggirava fra i 45 e i 47 centesimi, segno evidente che bisognava intervenire e noi abbiamo fatto questi bandi per esempio per diminuire i costi di produzione energetici, i costi energetici e quindi attraverso produzione di energia alternativa, ma bisogna fare altro, perché questi ulteriori aumenti mettono in ginocchio non solo la zootecnia ma anche l'agricoltura, bisogna calmiare i prezzi e quindi abbassare e sterilizzare gli aumenti della bolletta energetica e del caro carbonante e poi immaginare per esempio di rivedere la PAC aiutando chi vuol produrre. Noi abbiamo due grandi settori che sono un po' il polmone vitale dell'economia, l'agricoltura e l'edilizia. Dovrà cambiare almeno per un lustro, perché rispetto alla sostenibilità che l'Europa voleva ottenere a tutti i costi, rispetto alla quale noi in Calabria eravamo più avanti rispetto ad altre regioni, bisogna in questo momento essere competitivi e produrre più materie prime possibili dal grano al mais e quindi essere autonomi come continente europeo. Io l'altro giorno noi nel nostro telegiornale abbiamo sentito anche il grido d'allarme dei produttori di patate, i GP della Sila, ne parliamo tra un attimo. Abbiamo la pubblicità, poi voglio sentire una sola battuta con diritto, mi scrive con telespettatori, ma le accise c'erano pure ieri, quindi perché questi aumenti e questa scusante delle accise? No, no, io preferisco levare le accise come intervento strutturale, perché le accise incidono per oltre la metà del costo del carburante. Abbassarlo per un provvedimento dello Stato che fra qualche mese non ci sarà più e quindi torneremo al punto di partenza, finendo mani e piedi per consegnarci agli speculatori, non serve a nulla. Bene, mando la pubblicità, ci vediamo tra un attimo, rimanete con noi. Allora torniamo in studio, c'è una domanda per dirieto, gliela giro subito, scrive un telespettatore, si chiama Pasquale Mazza, scrive, aumenti dei prodotti di cui si sta parlando, specialmente il gasolio, devono recuperare due anni di mancata vendita. Considerate che un barile che corrisponde a 165 litri al costo di 100 mila, il costo al che produce è di 1,65, si aggiunge poi l'IVA e si arriva al prezzo odierno. Dirieto. Che vuol dire che devono recuperare due anni di mancata vendita? Per il lockdown che abbiamo vissuto, per la difficoltà, per le strade vuote. Si riconosce che non c'è nessun legame con la crisi in Ucraina, ma c'è una speculazione in atto. Se a noi va bene tutto questo, a me francamente non va bene pagare 40 euro in più, il pieno per portare soldi ai grandi distributori, a queste grandi multinazionali. Che poi a questo aumento del carburante si aggiungono anche le bollette pazze che stiamo ricevendo in questi giorni, per la luce, per il gas. Non so pazze. Guardi, 30 secondi. Noi abbiamo la Calabria invasa da paleoliche, abbiamo centrali idroelettriche, centrali termoelettriche. La Calabria sostanzialmente dal punto di vista energetico è autosufficiente. Benissimo, paghiamo bollette salatissime. Dal punto di vista del gas, ricordo a me stesso Crotone, che probabilmente è il principale polo di produzione. chieda a lei a Crotone che benefici ha un anno. Cioè la Calabria da sempre è terra di conquista. Noi esportiamo addirittura energia elettrica, per non parlare di quelle pale che deturpano il nostro territorio e sono miseramente ferme, perché noi sostanzialmente abbiamo finanziato dei soggetti che vengono in Calabria a prendere soldi e portarli via, senza lasciare nulla come per esempio a Crotone. E poi ci ritroviamo a far conti con bollette che sono aumentate dal 131% per quanto riguarda l'energia. Primo trimestre 2022 sono dati a Rera, non sono dati miei, e il 94% per quelle del gas. Mi dica lei se questo è un modo di governare questa perda. Filippo, prima di sentire il Presidente Perceccante, ti chiedo questo, ma la situazione attuale non è perché sorridi, scusa, sorridi per la bolletta che hai parlato. Perché mi hai dato del lei, sorrido perché mi hai dato del lei. Ah no, volevo, infatti volevo chiamare Perceccante e poi chiamato te. Vabbè. Per chi non sa la consuetudine del rapporto quotidiano fra me e te, mi è venuto da ridere. Senti, Filippo, ti voglio chiedere questo, voglio che tu introduca anche questo argomento. Cioè, ma non è che la situazione che viviamo adesso è figlia poi dei troppi no espressi in questi anni? Facciamo questo? No. Facciamo quello? No. Facciamo quell'altro? No. Per cui abbiamo, siamo invasi dei rifiuti, siamo dal punto di vista energetico la regione che esporta e vende l'energia e quello facciamo quello? No. Centrale idroelettrica no. Quello no. Insomma, alla fine poi stiamo pagando il costo di questo negare sempre tutto, sempre aprirsi a prospettive nuove, perché poi la storia ci presenta al conto. Sì, è vero, è anche vero quello che diceva prima di Lieto a proposto della tua domanda. Siamo invasi da pale eoliche, anche su questo io non so, molti stanno conducendo delle battaglie contro l'invasione delle pale eoliche che deturpano il panorama, il paesaggio. Insomma, io capisco tutto, però girando un po' per l'Europa e per il mondo si vede che tante nazioni e tanti stati fanno ormai uso delle pale eoliche come uno strumento di produzione alternativo all'energia che purtroppo ci sta venendo meno con il gas e il petrolio. Quindi noi dobbiamo anche abituarci a fare i conti con queste situazioni nuove che stanno venendo alla luce e credo che ci sia la necessità, noi non abbiamo parlato oggi di un'altra emergenza che deriva anche da altri no, Carattilio, che è quella ad esempio dei rifiuti, perché in questo momento c'è una grande emergenza per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti perché le discariche sono piene, noi abbiamo alle nostre spalle, introduco semplicemente con un abbattuto questo argomento, i tanti no alla costruzione dei termovalorizzatori e quant'altro che poi ci porta a una situazione come quella di oggi, cioè a dire non vengono raccolte i sacchetti dalla spazzatura dietro il nostro portone, poi ce la mentiamo però il punto vero è che noi dovremmo capire quello che sta accadendo. Io vorrei fare una domanda all'assessore Gallo sul grano, se è possibile ad esempio assessore incoraggiare esperienze come quella del mulinum di cui sicuramente lei ha conoscenza, di questo giovane imprenditore fra l'altro a pochi metri dalla cittadella regionale che sta producendo del grano con grano autoctone anche diciamo di qualità, non credo che risolverebbe il problema in generale ma potrebbe essere una via d'uscita e poi concordare con Perciaccante quello che egli ha detto all'inizio del suo intervento che è fondamentale è che io continuo a non capire, cioè anche a me capita che ci sono fra un distributore e un altro dei prezzi che calano di 30, 40 ma anche di 50 centesimi, ora io questo continuo a non capirlo e ovviamente non so da che cosa deriva. In tempi normali sicuramente fra le idee c'era quella di andare ad una programmazione che privilegiasse la qualità delle produzioni, la nostra tutto sommato è un'agricoltura di nicchia, noi siamo una regione con meno di 2 milioni di abitanti, è vero l'ortofrutta calabrese cuba circa un miliardo di euro, però tutto sommato diviso per le varie filiere la nostra non è un'agricoltura di produzioni massive, è un'agricoltura di nicchia e quindi è un'agricoltura che nella programmazione futura dovrebbe basarsi sulla sostenibilità, quindi produzioni biologiche, produzioni GP e DOP e comunque produzioni di qualità elevata per agganciare mercati diversi dal mercato interno o dal mercato nazionale, quindi mercati internazionali. Ed è chiaro che in questo tipo di programmazione ci sta l'idea di puntare sui grani autoctoni o sui grani antichi, in una idea di valorizzazione delle prerogative, delle peculiarità e delle specificità locali. In questo momento non si può essere così sofisti, bisogna aumentare le produzioni e bisogna aumentare le produzioni di grano a livello generale perché noi abbiamo bisogno di produrre grano per trasformarlo in farina e poi in pane, abbiamo bisogno di produrre mais per dare il mais soprattutto come mangime per le nostre aziende zootecniche. In questa fase è chiaro che se la situazione si normalizza anche questo, la valorizzazione delle specificità e delle tipicità è in programma il sostegno a chi vuole ritornare a produzioni di qualità, a produzioni antiche che possono avere e spuntare anche prezzi superiori perché se il grano normale fino a qualche settimana fa spuntava 30 euro a quintale, il grano antico poteva spuntare anche 40-45 e quindi chiaramente questo avrebbe favorito chi avrebbe voluto dedicarsi a questo, ma in questo momento bisogna cercare di aumentare le produzioni. Poi mi racconta anche questa storia dei fertilizzanti perché pare che cominciano a scarseggiare. Anche questo, non solo. No, me ne parla tra un attimo. Me ne parla tra un attimo. Voglio solo un attimo far intervenire il presidente Perciaccante perché prima vedevo cantieri aperti, si lavorava tanto e da un po' di tempo che sto vedendo costruzioni un po' lasciate a metà, altre che dove non si vedono più operai all'opera, ma che cosa succede? Tutta colpa di questa maledetta guerra? No, vabbè, la guerra non è una questione di guerra. In effetti noi abbiamo avuto un periodo da fine anno, agosto, settembre, ottobre, fine anno, dove c'è stato un aumento di cantieri, ci sono partiti solo in Calabria 4488 cantieri. Tutto questo ha portato ad avere i problemi di personale perché adesso non si trova più personale che lavora in edilizia. Abbiamo avuto i problemi dovuti un po' alla pandemia, ora alla guerra, perché la guerra è un'altra conseguenza per quanto riguarda i materiali, perché sono stati aumenti di costo di materiale. Pensi che tutte quante le aziende energivore, quindi per il ferro, le acciaierie, le fornaci, per i mattoni, non si trovano più i materiali che sono i materiali base per l'edilizia. Questi materiali non si trovano perché le aziende hanno dovuto bloccare le produzioni in virtù dell'aumento del gas, perché sono tutte quante aziende che vengono alimentate a gas. Qua ci sono le acciaierie che sono chiuse, non ce la fanno più. Pensi che sono andati in appalto in Italia, grossi cantieri, a Roma si parlava del viadotto, che era un lavoro importante dove era tutto in acciaio che è andato deserto, quindi ci sono già le gare che cominciano ad andare deserto. Quello che a me preoccupa però è che ora c'erano oltre 100 miliardi di euro da spendere in Italia per quanto riguardava il PNRR e adesso bisogna cominciare a pensare di rimodulare il PNRR, perché qua i cantieri che sono stati progettati, che hanno computato, ora non ci si va più con quei quattrini, quindi lì dove potevano venire realizzati 100 cantieri si dovrà cominciare a pensare di realizzarne 80, perché purtroppo con quei quattrini non si ci va più. Se lei vede, il ferro è triplicato, il legno è aumentato di una volta e mezzo, tutti gli altri materiali che provengono dall'acciaio sono aumentati, lei pensi che un mattoncino, quelli gli otto forini di fornace, va bene, costava 20 centesimi, adesso costa 48 centesimi, quindi voglio dire è aumentato di una volta e mezzo. Tutto questo va a creare grossi problemi e ripeto, poi il settore delle costruzioni è un'altra cosa da tenere molto in considerazione, noi siamo stati fermi, diciamo che ha rallentato dal 2008 al 2021, abbiamo avuto un rallentamento, abbiamo stato incontro a due crisi economiche, poi alla pandemia, voglio dire quindi una volta che si era partiti col 110 e anche le aziende, parliamoci chiaro, non erano strutturate per poter far fronte a tutto questo, come non erano strutturate le pubbliche amministrazioni, voglio dire, perché le pubbliche amministrazioni avevano grossi problemi con il personale, perché non c'erano gli uffici tecnici sottodimensionati, voglio dire, e quindi per forza c'è la difficoltà che i cantieri sono fermi, i cantieri sono fermi perché poi subentrano tantissimi, molteplici problemi, insomma, ma ripeto, è indispensabile ora pensare, questo lo dico anche all'assessore Gallo, perché anche la regione, i progetti regionali, anche in agricoltura, per quanto riguarda i progetti in agricoltura, bisogna cominciare a pensare che ci sono degli aumenti, voglio dire, e quindi i prezzi che vengono utilizzati devono essere dei prezzi congrui, se no si rischia di non poterli mettere in giù. Presidente, quanto pesa in termini di occupazione e la preoccupazione di perdere posti di lavoro nell'edilizia, se dovesse persistere questa situazione di crisi, la risposta in termini… Ma glielo dico subito, tutte quante le aziende, le pensi un pochettino, tutte le aziende che forniscono i materiali all'edilizia, fornaci, gli impianti di bitume, le ferghiere, tutto quello che c'è dietro hanno le persone già in cassa integrazione. Io questo, quello che dico, cioè qua bisognerebbe ragionarci su, bisogna far sì che non si mettano le persone in cassa integrazione, ma si dia una mossa per poter far lavorare le persone, voglio dire, perché pagare delle cassa integrazioni senza rendere produttivi tutti quei quattrini, perché poi sono quattrini che vengono, cioè per tenere fermo il personale, vediamo un pochettino di impegnarli a far lavorare le persone, perché non è giusto che ci siano persone in cassa integrazione in un periodo come questo, che c'è necessità di mano d'opera, c'è necessità di lavorare, ha capito? Qualcuno è il cane che si muore della coda. Bene, avvocato di lieto, leggo la bolletta Enel, magari c'è scritto consumo per 30 Euro, 40 Euro, poi il costo complessivo 170 Euro, ma com'è possibile? Ma come è possibile una cosa del genere? Noi in queste bollette paghiamo un po' di tutto, paghiamo anche per chi è moroso, per esempio. Noi paghiamo le inefficienze del sistema, perché noi dovremmo sostanzialmente pagare la corrente elettrica che consumiamo all'interno delle nostre abitazioni, e invece non paghiamo quella, paghiamo la dispersione di una rete vetusta che viene fatta tranquillamente scaricare alle grandi società sulle famiglie. E purtroppo le famiglie sono quelle, come dicevo prima, hanno pagato un prezzo molto di più per questi aumenti che per la pandemia. E questo grazie a una classe politica francamente stupefacente in tutti i sensi, che grida alla colossale truffa come il Ministro Cingolani, ma poi si guarda bene dall'intervenire in maniera strutturale. Ma io cittadino come mi difendo se il costo del consumo è di 30 euro e la bolletta è di 200 euro? Che cosa posso fare? Niente, devo pagare. Noi purtroppo non possiamo ritornare alle candele, perché pensi alle persone... Quindi devo pagare e basta. Noi dovremmo fare squadra, cosa che difficilmente facciamo in Calabria, e magari anche attraverso l'ausilio dell'amministrazione, è cercare di creare dei gruppi di acquisto per spuntare un prezzo lievemente minore. Però ripeto, fino a che i padroni del vapore, chi ci governa, avrà tutto l'interesse agli aumenti, perché come detto il 55% oltre IVA sono tasse su un litro di carburante. Le dico questo. Io ho pagato la bolletta della luce nel precedente bimestre 230 euro. Adesso mi sono visto recapitare una bolletta di 460 euro, con lo stesso consumo. È uguale la precedente e quella attuale. Lei pensi a coloro i quali vivono con un trattamento pensionistico al minimo. Noi li stiamo uccidendo. Noi li stiamo francamente uccidendo. Non è un problema di garantire il superfluo. Stiamo parlando del gas per lavarsi e della luce per poter sopravvivere. Di questo stiamo parlando. è dinanzi a questo. Ascoltare un ministro della Repubblica che mi parla di colossale truffa, ma non fa nulla. Anzi, incassa da questa colossale truffa, come le ho detto prima. Farla brividire. Farla brividire. Farla brividire. Farla brividire. Farla brividire. Farla soggere il solfetto che stiano finanziando le induzioni e le armi. Sì. Perché alla fine questa guerra è una gigantesca sceneggiata per far lucrare sulla paura e sulle tasche dei cittadini. Però ci sono morti, ci sono vite umane, vite umane. Io ho grande rispetto. No, io parlo per quello che accade in Italia. Ho capito, ho capito. Filippo. Questo qua, questo che diceva ora del lieto, cioè qualcuno deve correre ai ripari. Io, perché tu hai usato, dici ho pagato tot. Ma immagina un pensionato la cui pensione arriva a 800 euro al mese, come fa a pagare una bolletta di luce e di gas che è messa assieme, queste che sono arrivate di dicembre e gennaio, non vanno al di sotto delle 400 euro. Questo è il punto. Allora, se noi stiamo parlando di ristori, ristorini, ristorandini, ristoranti, tutto quello, tutte le grandi chiacchiere che sono stendenti in questa fase, voi mi consentirete ormai, secondo me, hanno raggiunto il tempo che trovo. C'è qualcuno che debba intervenire in maniera seria. Sul 110, a perciaccante, anche per motivo personale. Secondo lei ci sarà una proroga di questi termini? No, 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 niente, 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 per te niente. No, fai rispondere, fai rispondere al Presidente. No, no, la proroga la stiamo chiedendo, voglio dire. Vuoi perché è stata, abbiamo perso del tempo perché la posta, oeva, posta, cassa depositi e presti e banche si erano bloccate nel finanziare, nel fare lo sconto in fattura. Ora si è ripreso, stanno riprendendo, ha ripreso cassa depositi e presti, ha ripreso le banche più grosse, quindi diciamo da questo punto di vista si è ripartiti. Quindi, ma abbiamo perso del tempo, abbiamo perso forse un mese e mezzo, insomma, ad aspettare. Vuoi perché in effetti parecchi cantieri non sono ancora partiti e potrebbero partire. Quindi quello che noi chiediamo, almeno per quanto riguarda le unifamiliari, che possa essere prorogata, l'abbiamo chiesto come Ance, il nostro Presidente Gabriele Buia ha chiesto adesso pure un incontro con Draghi per discutere sia degli aggiornamenti in circuito della rimodulazione del PNR, ma anche su 110, dare un pochettino di tempo in più anche sulle unifamiliari fino al 2023, cioè almeno fino al dicembre 2022 per le unifamiliari ai condomini, casomai portarli, perché la misura sui condomini adesso sta andando, stanno iniziando a partire, quindi se si può prorogare almeno fino al 2025, poi dovrebbe diventare ciclica con una riduzione dal 110 al 100, al 90, voglio dire, però i tempi dovrebbero, speriamo, dovrebbero… Bene, gli ha dato una buona notizia perché lo vedo già risollevato. Assessore Gallo, c'è stata una corsa fino a qualche tempo fa a mettere in piedi degli agriturismi, no? Che devono autofinanziarsi, nel senso che devono attingere la materia prima dal terreno che hanno a disposizione. E oggi che c'è? Anche queste sono in grande crisi? In passato ci sono state le misure che avevano previsto, hanno incentivato gli agriturismi per cui gli imprenditori hanno deciso di convertire in parte la loro azienda, d'altro canto per alcuni è diventata un'attività principale, per altri è un'attività all'atere di attività agricole, di imprenditori agricole importanti. Io stesso lo scorso anno ho finanziato ristrutturazioni come Dipartimento Agricoltura, ristrutturazioni o implementazioni di agriturismi perché l'idea che il nostro turismo possa essere solo un turismo balneare, estivo e invece non possa essere un turismo destagionalizzato è il che passa anche attraverso l'utilizzazione degli agriturismi che devono naturalmente essere agriturismi di qualità per un turismo che possa essere enogastronomico, destagionalizzato e che possa coinvolgere anche il fattore ambiente e anche il fattore clima. Non dimentichiamo che noi siamo una regione che ha un fattore clima importante, che ci consente di renderla fruibile per almeno 10 mesi, 10 mesi e mezzo all'anno, soltanto un mese, un mese e mezzo. Per noi fa freddo ma per chi magari viene dal nord Europa, dal centro Europa non sono climi pesanti o aggressivi, per cui l'idea di puntare fra i turismi anche al turismo collegato al settore agricolo o perché no puntare anche alle fattorie didattiche o alle fattorie sociali, quindi unire il welfare e quindi consentire alle aziende di avere un ulteriore sostegno al reddito dell'azienda agricola penso che possano essere delle strategie da portare avanti e è quello che abbiamo cercato di fare. Per cui gli agriturismi possono avere una funzione. Ma lei prevede che da qui a poco dovremmo fare i conti anche con un maggiore aumento del costo del pane, della frutta, della verdura? Io credo che purtroppo questi aumenti, se ancora non sono aumenti che si sono scaricati sul consumatore finale, perché prima Filippo nel purparlei, prima di iniziare la trasmissione diceva che oggi ha acquistato degli ortaggi e della frutta ma ancora gli aumenti non sono aumenti di grosse proporzioni, credo che purtroppo questi aumenti dei costi di produzione si riperbereranno sul consumatore, sull'utente finale, per cui io credo che come cittadini, come consumatori ne avremo conseguenza nei prossimi mesi. Mi auguro che ci possa, che possa rientrare questo caro bolletto e questo caro carburante, perché altrimenti lo pagheremo tutti, lo pagheremo sicuramente tutti. Di rieto, al sentore anche di questo? Beh sì, in questi mesi abbiamo registrato aumenti incredibili, faccio l'esempio dei finocchi che sono quasi triplicati. Quest'anno un campo di finocchi vale 22 mila euro, un ettaro di finocchi, lo scorso anno andava via 5 mila, 7 mila euro. 22 mila euro? 22 mila euro, ma devo dire che i nostri produttori, noi abbiamo in corso il riconoscimento del GP per Isola Caporizzuto, non hanno avuto questi ricavi perché purtroppo come nel grano c'è l'intermediario che è il grande commerciante, il grande distributore che acquista magari a prezzi tra i 7 mila e 9 mila euro, ma poi rivende a 22 mila euro perché i finocchi per esempio sono uno dei prodotti che quest'anno hanno avuto un'annata importante dal punto di vista dei ricavi. Quindi di rieto dobbiamo prepararci anche a questo ulteriore… E purtroppo lo stesso discorso di prima, la Calabria è una terra di conquista, vengono, mettono le pale, deturpano il territorio, ci dicono che siamo autonomi, ma poi ci fanno vendere l'energia e le bollette le paghiamo noi e abbiamo la grande distribuzione organizzata che ci dice addirittura cosa dobbiamo mangiare e noi lasciamo marcire nei nostri campi i prodotti calabresi che sono più buoni, ma non per un discorso campanilistico, ma perché ci mettono meno tempo ad arrivare sulle nostre tavole e seguiamo i consigli della grande distribuzione organizzata che è interessata a far profitto e ci spiega com'è meglio mangiare dei prodotti che non appartengono alla produzione calabresi. Guarda, io penso… Dovremmo tutti quanti dire forse è meglio consumare calabresi. Io penso ad un agricoltore che deve portare i suoi prodotti nei mercati che contano. Allora, i trasporti costano, il costo del carburante è altissimo, cioè un'arancia per esempio è acquistata qui… Anche il sostegno dell'autoconsumo è importante. L'Avvocato di Lieto dava un messaggio che io condivido. Ci sono due livelli diversi. C'è il livello dell'autoconsumo, vale a dire noi in Calabria soltanto il 10% dei prodotti che acquistiamo ha origine calabrese e su questo naturalmente rafforzare la stima di noi calabresi verso i nostri prodotti credo che sia un aspetto importante. Abbiamo avviato delle campagne anche di informazione per favorire questa maggiore sensibilità. D'altro canto la sfida è anche quella del raggiungimento di mercati alternativi. C'è un telespettatore che scrive, sì siamo pronti a consumare calabresi, ma i prodotti calabresi costano di più. I prodotti calabresi costano di più perché rispetto ai prodotti della grande distribuzione in alcuni casi, ma non sempre, non sempre, diciamo sono prodotti che costano di più. Se ci sono prodotti di qualità, i prodotti di qualità costano un tantino di più. faccio un esempio. Noi abbiamo in Calabria tante acque minerali. L'acqua minerale più consumata in Calabria non è calabrese e proviene dalla Valtellina. Se invece ci abituassimo a consumare acqua calabrese, ce ne sono tante, voglio fare pubblicità alle nostre acque, la Fontenoce, acqua Calabria, acqua Fabrizia, sono tutte acque calabresi. Se noi ci abituassimo a consumare, che sono anche migliori e con minori quantità di residui, io penso che probabilmente aiuteremmo le nostre aziende. Faccio un altro esempio, quello dei formaggi. C'è una multinazionale che fattura un miliardo e 300 milioni di euro. In Calabria fattura 65 milioni di euro, non dico qual è. È una multinazionale che ha un nome italiano ma che è francese e che produce un formaggio che ha un ino rispetto al nome dell'azienda. Ecco, io penso che noi abbiamo anche formaggi di buona qualità e che questi formaggi di buona qualità vadano anche acquistati e consumati e bisogna avere una grande sensibilità. Lo sai che, perché ti do del tuo come per Filippo, lo sai che noi il 28 marzo faremo una conferenza stampa in cittadella per dire, ecco questo è un altro livello, ma per dire che c'è un formaggio stagionato che ha vinto il campionato mondiale dei formaggi, quindi è medaglia d'oro al campionato mondiale dei formaggi, il formaggio pecorino delle terre di Reggio Calabria, che ha battuto anche i parmigiani reggiani o il grana padano. Che cosa voglio dire? Voglio dire che certo, ci sono dei formaggi di grande qualità con i quali dobbiamo aggredire altri mercati, ma ci sono formaggi meno pregiati che potrebbero battere quel lino che in Calabria fattura 65 milioni di euro. Ci dobbiamo fermare la pubblicità, poi per l'ultimo break torniamo in studio. A tra poco. Intanto ci arrivano tanti messaggi, dice giustamente, i telespettatori scrivono ma come si fa con questi prezzi così alti, un solo stipendio in casa, è certo che vai a risparmiare, non prendi il prodotto di nicchia, perché il prodotto di nicchia costa e non te lo puoi permettere, di dietro, non te lo puoi permettere il prodotto di nicchia, per cui devi andare per forza ad approvvigionarti con prodotti che in qualche modo, poi nel carrello della spesa, è voluminoso ma non spendi tanti soldi. Sì, guardi, noi potremmo risparmiare tantissimo se non avessimo fatto nel passato delle scelte scelerate che ci hanno portato a regalare l'acqua calabrese ad una multinazionale francese, parlo di Sorical, che è costituita dalla multinazionale Veolia. L'assessore Gallo ci spiegava correttamente quanto spendiamo per acquistare l'acqua minerale in bottiglia. Ebbene, ricordo a me stesso che i calabresi pagano l'acqua come se fosse potabile, dico come se fosse perché sappiamo benissimo che l'acqua non è potabile ma ci viene fatta pagare come se fosse tale. Ecco, se noi fossimo in grado di rivendicare a Sorical il rispetto della Convenzione, applicare la legalità tariffaria perché Sorical, grazie a complicità diffuse, e lo ricordo anche all'assessore Gallo, applica ai comuni calabresi tariffe maggiorate illegittimamente, non perché lo dico io ma perché dice la Corte Costituzionale, di circa 200 milioni di euro, forse quei cittadini non sarebbero costretti ad andare al supermercato a prendere le casse d'acqua e già lì qualche soldino si risparmierebbe. Però lì la politica non ci vuole fare niente perché conviene a tutti e dal resto della Regione ha interesse a che i cittadini vengono trattati come delle vacche da muncere. Chieda all'assessore Gallo perché non interviene per riportare la legalità tariffaria nelle tariffe dell'acqua determinate da Regione Calabria e da Sorical e bocciate dalla Corte Costituzionale. Allargherà le spalle perché è così, è giusto che sia così, i calabresi devono chinare la testa e pagare. Per quanto riguarda invece l'acquisto dei prodotti, come dire, non di nicchia mettiamola così. Intanto io non penso che tutti i prodotti calabresi costino di più, ma ricordo a me stesso che andare a fare la spesa negli hard discount non conviene alla lunga. E forse sarebbe il caso di andare a recuperare le nostre tradizioni e fare la spesa dal produttore diretto a chilometro zero. Ma guardi adesso stiamo assistendo ad un processo che mette in discussione il concetto di globalizzazione. I prossimi anni saranno dominati da questa visione nuova del mondo. Filippo, siamo in chiusura. Andiamo con la domanda all'assessore e a Perciaccante che poi ne ha in chiusura. L'assessore credo che debba rispondere, se vuole rispondere, alla domanda che gli ha fatto. Sì, rispondi, rispondi. Ma poi io volevo confermare una cosa che diceva Gallo che è fondamentale e che secondo me ha perfettamente ragione. E cioè neanche noi calabresi siamo a conoscenze o anche se non valorizziamo, figuriamoci, non lo facciamo, dei nostri prodotti. Perché ad esempio mentre tu parlavi e dicevi dell'esperienza del pecorino reggino, io non so Attilio, io non ne ero ad esempio, confesso, non ne ero assolutamente a conoscenze. Stiamo parlando di una persona mediamente informata come sono io. Due sull'acqua, è tutto vero quello che ho detto di lieto sul consumo dell'acqua che ci arriva dalla fontana, ma per quanto riguarda le acque minerali, che in ogni caso è una grande risorsa, a me è capitato cose inenarrabili. Ristoranti che sono messi a dieci metri dal punto di produzione dell'acqua, non faccio il nome ovviamente per non fare pubblicità, che utilizzavano l'acqua a Boario, faccio in questo, lo dico. Siamo alla follia, non si capisce che cosa debba accadere per organizzare una filiera decente fra consumo e ristorazione che possa aiutare veramente l'economia calabresa. Bene, allora la domanda non l'hai fatta né a Perciaccante e né all'assessore Gallo. Se risponde prima l'assessore Gallo a di lieto, poi ce n'ho una di collegato. Arriva una nota per di lieto, dice un telespettatore, forse l'avvocato di lieto dovrebbe sapere che a parità di prodotto i prezzi, il costo che si spende per acquistare nei piccoli negozi è quasi il doppio, che è quello che invece si può, lo stesso prodotto può essere acquistato nei grandi magazzini, insomma. Quindi c'è questa differenza. E torniamo alla riflessione del telespettatore di prima. Una famiglia di quattro persone deve badare a far quadrare i conti. Onestamente io tre giorni mi occupo di altro, prima sono stato consigliere, poi adesso mi occupo di agricoltura e forestazione, non mi occupo di Sorical, ma in ogni caso Sorical in questo momento ha un'altra questione. Non c'è più il socio privato, il socio privato vuole di fatto uscire in mano ad un gruppo di banche tedesche, c'è una questione che riguarda addirittura e una società in liquidazione, quindi intervenire su questi aspetti credo che non sia facile come dirlo, è abbastanza complicato. In ogni caso sono valutazioni che si devono fare sulla scorta comunque anche di documenti che vanno guardati e vanno valutati e non di semplici affermazioni. Sono sicuramente questioni che giriamo anche alla valutazione del Presidente, che in questo momento si occupa del fascicolo Sorical e che sicuramente saranno oggetto di valutazione e di approfondimento, perché no? In ogni caso credo che il sistema sia un sistema abbastanza compromesso, non è semplice dire scontiamo di 200 milioni di euro la bolletta oppure diamo acqua potabile in un sistema di infrastrutture vetuste, di reti di induzione di vetuste, di reti di distribuzione altrettanto vetuste e quindi parlare di acqua potabile non credo che sia così semplice, perché credo che le acque purtroppo sulle acque gli investimenti non ci siano stati e un ultimo esempio l'abbiamo avuto in questi giorni con qualche errore abbastanza clamoroso da parte dell'EC. Diceva Di Vieto? E noi la paghiamo come se fosse potabile, Assessore. Questo è il guaio. Su questi argomenti io credo che sia necessario intervenire, ma intervenire a valle. Sull'affermazione dei 200 milioni, guardi, non è un'affermazione mia, è un'affermazione del Comitato di Consulenza Giuridica della Giunta Regionale della Calabria. Il professor Nico Dascola vi invita, invita la Regione Calabria a restituire i soldi ai consumatori. Quindi non è una questione mia. Il problema è che quando non si vuole fare gli interessi dei cittadini, la politica fa quadrazzo. Va bene, questo... Non credo che sia questo. Io credo che sia lì su... Se vuole gliela mando subito. Se vuole gliela mando subito. Su Sorical ci sono altre problematiche, vale a dire Sorical fattura X e i comuni pagano X meno Y, che la Regione ha il bilancio ingessato perché i comuni non pagano la bolletta idrica a Sorical e che quindi è facile anche fare dichiarazioni di questa natura, poi è difficile intervenire. Io sicuramente non sono contro i cittadini perché sono espressione del voto dei cittadini e quindi non faccio quadrato con nessuno perché se posso difendere il territorio dei cittadini lo faccio sicuramente. Ma sicuramente non ci si può dire con non scialanza, ci sono 200 milioni che vanno restituire dei cittadini e la politica fa quadrato e tutti quanti siete complici. Lo dice un organo consultivo della Regione, non lo dico io. Se mi dà 20 secondi e poi mi taccio, ricordo a me stesso che c'era stato spiegato che il privato sarebbe dovuto venire in questa Regione per apportare capitali, così come ricordo a me stesso che una giunta regionale di questa Regione decise di fare un mutuo, e da qui il problema che citava prima l'assessore, per dare i soldi al privato. Siamo alla follia. Tutto questo avviene in Calabria. Sì, sì, ho capito, ma di questo non è che ne possiamo rispondere quelli che ci sono adesso rispetto a danni, danni che sono seri, seri che sono stati… Mi metto a interloquire con chi c'era 20 anni fa. Eh, infatti. Bisogna recuperare. Allora, per Cacciante, siamo in chiusura, lasciamo con una buona notizia qualcosa, insomma, per quanto riguarda l'edilizia, si intravede qualcosa di ripresa? No, niente? Ma non è che non si intravede qualcosa di ripresa, ripeto, il nostro dovrebbe essere il settore che dovrebbe tirare davvero di più adesso in questo periodo, dato l'enorme mole di lavoro che deve partire, però purtroppo, ripeto, stavamo lì, il settore che stava lì per ripartire, era ripartito, però adesso con questi aumenti dei prezzi si rischia di paralizzarsi, insomma, questa è la nostra preoccupazione, questa qua, ripeto, noi se non dovessero rientrare i costi dei carburanti, i costi delle materie prime, sarà un problema grossissimo anche per spendere i fondi del PNRR, sarà un grosso, grosso problema perché, ripeto, già ora ci sono gare che stanno andando deserto. Gli accordi di programma dell'ANAS, le opere che doveva realizzare l'ANAS, sono parecchie, sono ferme perché non ci si fa più con i costi. E quindi, signori, io lo chiedo a tutte le amministrazioni, anche alla regione, di far sì che rivedesse un pochettino tutti quanti i computi che devono partire, l'aggiornamento dei progetti, quindi dei progetti nuovi, perché se no si rischia davvero di perdere ulteriore tempo, quindi per guadagnare tempo bisogna aggiornare e far partire per bene le opere. Bene, bene, grazie. Filippo, chiudiamo con un titolo, vediamo se riusciamo a beccarlo con il titolo. Secondo me ha detto una cosa alla quale io poi ho risposto e alla quale volevo un'ulteriore specifica. Ha senso questa storia della filiera fra produttori, consumatori, grande ristorazione, grande distribuzione, voi ci state lavorando su una idea di questa natura in modo che non finisca altrove la produzione dei prodotti agricoli collegati quantomeno all'agricoltura, ad esempio abbiamo parlato dell'acqua, per dare sfogo e dare possibilità di accrescere le produzioni e anche tenere le nostre produzioni in casa? L'idea è quella di favorire le aggregazioni fra produttori e anche di sensibilizzare, ma su questo bisogna intenderci, io considero con grande rispetto, perché poi queste sono le regole del mercato, il più grande avversario della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare è la grande distribuzione, però sappiamo che comunque non si può fare a meno di grande distribuzione e della grande distribuzione sappiamo che con la grande distribuzione dobbiamo ragionare, dovrebbero ragionare più che altro a livello nazionale, ad esempio sulla questione della filiera zootecnica, sul costo del latte, ma noi stiamo ragionando e ci siamo anche sentiti con alcuni rappresentanti della grande distribuzione in Calabria per fare aprire un tavolo e consentire una maggiore sensibilità verso i prodotti calabresi che naturalmente vanno anche spinti, non basta la misura di sensibilizzazione anche attraverso politiche di promozione, ma serve anche una vera e propria presentazione all'utente del prodotto, favorendone con le tecniche naturalmente di mercato e con le tecniche di marketing, favorendone naturalmente l'acquisto da parte dell'utente, ma il primo aspetto è quello della unione fra i produttori, perché i produttori che rimangono isolati in forma individuale sono sempre più deboli e rischiano di non resistere agli attacchi del mercato della grande distribuzione, che non fa sconti a nessuno. Bene, Filippo, un titolo veloce che stiamo in chiusura. Il titolo è Calabrese, aiutiamoci, aiutiamoci che Dio ci aiuta. Va bene. Grazie a Di Dietro, grazie al Presidente Perceccanti per queste state con noi, grazie all'assessore Gallo, auguriamo buon lavoro, ci vedremo da qui a qualche tempo per verificare se le cose scendono, ma soprattutto se riusciamo ad attenuare l'impatto. Io penso che la promozione ci aiuti, l'innovazione diminuendo i costi di produzione, l'aggregazione e la promozione descrivendo anche un'immagine più giusta di Calabria, perché noi siamo una terra che ha bisogno di alleanze interne, perché siamo un po' disgregati e di alleati all'esterno, questi ci mancano. Grazie, grazie a Luca Achito che ha curato la regia, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.